Una giornata intensa colma di tensione per i tre comuni di Vicenza, Caldonio e Costa Bissara evacuati per permettere le operazioni di disinnesco della Old Lady, la bomba d'aereo MK2 da 4000 libre rinvenuta all'aeroporto Dal Molin. Sei mesi di studio, sono terminati i lavori di disinnesco della Old Lady, la bomba che era stata gettata sull'aeroporto Dal Molin il 17 novembre del 44. Tre esperti artificieri dell'esercito sono stati impegnati per ore per rendere innocuo l'ordigno definito blockbuster capace di distruggere un intero quartiere. Hanno tolto le tre spolette, hanno estratto anche i tre detonatori che sono la parte più sensibile. I tre detonatori possono essere assimilati, giusto per far capire, a tre raudi, a tre petardi grandini. Quindi tolti questi tre detonatori, prende la bomba, va solo svuotata dell'esplosivo che è giacente lì da 70 anni ed oltre. 27.000 le persone allontanate da casa in 2.500 metri di raggio, abitazioni svuotate sino al tardo pomeriggio, quando il sindaco Variati ha disposto il rientro nelle abitazioni. Tutto è andato bene, è andato bene e poi sono una grande soddisfazione e un grande grazie, oltre a questi straordinari e coraggiosi specialisti, alla città, ai miei concittadini che hanno capito e hanno collaborato. Una task force al completo, militari civili, protezione civile, questura, personale sanitario, al lavoro per garantire la sicurezza alla cittadinanza. Quest'operazione farà scuola anche alla Nato, ma non solo dal punto di vista militare, perché proprio anche dal punto di vista organizzativo. Abbiamo messo in moto delle procedure che stanno funzionando bene, c'è anche addirittura un progetto europeo che sta facendo una prova oggi nelle situazioni di emergenza, ma soprattutto la parte informatica di georeferenziazione che abbiamo a disposizione in Regione è servita a mappare in maniera puntuale e precisa fino all'ultimo numero civico tutti i cittadini residenti nelle zone interessate.